Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Gaiddi R e oggi siamo in un nuovo gameplay di Among Us insieme non a due ma a tre persone e queste persone belle sono Matti68 che sarebbe MarioGamer68 e ProfFioreDarkSoulK.O. Buonasera! Mattia se saluta! Ciao! Un prosciutto e ho molta fame! Faccia per il te, lì da no, aspetta! Faccia per il te! No vaiù, voi mi volete mordere il prosciutto, non siete stati lontani da me, è l'unico pet che ho! No, sto accrezzando a Matti68. Potrei fare la modalità normale che facciamo di solito? Mattias, voce! Ho detto, potrei fare la modalità normale che facciamo di solito, proveremo anche la modalità nascondino. Siamo già in modo di farlo. Lo trovo perché ti metti pubblica e dopo mi hai letto nella mente. Mi ha detto che ho un problema, c'ho i gioi con Drift. E mica uno di problema ne hai, Manuel! Mi da un po' il tito, può mettere immediatamente nella partita anche se non sono ladri. Ragazzi, ma ho paura che i vostri auto non si sentano perché secondo me l'audio di Meet è basso. Secondo me. Alza il volume! Easy! Ragazzi, guardiamo un attimo che cappello potrei mettermi. Vedano, ma che stai facendo? C'è sto cappello che mi dà davvero tantissimo fastidio perché si chiama Taddeo. Sta cosa mi dà molto fastidio. Cappello marrone, chiaro e rosso. Giante. No! Godo. Vediamo, ti metto quel palloncino e un altro punto. No! Tanto non ci può neanche entrare perché è troppo piccolo. Alla potete finire! Potete finirla! No! Prima partita vediamo che cosa capiteremo. Sicuramente non impostori perché ne è uno. Quindi le probabilità sono bassissime. Se appaio io, sappiate che la vostra fine è god. Godo! Godo Scuds! Godo ragazzi! Godo! Hashtag Godo! Maria subito! Una cosa gay di R. Gay di R. Quante volte te l'ho detto che la moneta con la torcia è la moneta più orribile di Among Us? Se nemmai è stata inventata. E abbiamo un condotto! Quindi siamo pure... Vantaggiati! Noi! Aiuto! No! 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 Fammi entrare nel cazzo di condotto! Raga! Gli sono passato dietro e non mi ha visto! Quante mongoloide! C'è la torcia! La torcia! Fittà! La torcia ti fa sentire un tipto a pinare! Raga ma pure quando eri impostore avevano messo la cazzo di torcia! Chi non poteva prendere se no Con Mattias utilizzerò l'opzione Tormenta perché si Ragazzi non corre Juventino No Manuel Ma sai che sei un pezzo di me Manuel Io so pure morto Chi non corre Juventino Vabbè tu puoi No vedi è corretto con Tachino morto No raga ma ti ho acquittato L'altro ha vissuto infame E vabbè vai you Among Us è piena di gente infame E raga io C'è arrivato a livello 39 Ma che manafocca Che sei puritano Ah Sì assi un po' più in basso Grazie Raga io vi avverto Chi non accarezza i propri pet è un mosh Previamente presenta che quando Ti fa accarezzare il pet Fa andare indietro così Sì Praticamente per un bug io stavo continuando a camminare Così verso la scatola Ho messo un attimo in pausa Seconda partita vediamo se Riesco a registrare qualcosa Se me ne dimentico sti cazzi Allora adesso vediamo di E Dai ho paura What the hell Oh my god Ragazzi Ho paura Allora In questo momento Dark Soul è l'impostore Ho paura che potrei essere il primo tra le sue vittime Perché sono molto bullizzato da lui Non mi abbandonare No Porco Ce l'avevo quasi fatta No Sì mi ricordo che siamo in un gameplay su YouTube Quindi non posso Però c'è solo quantino C'è solo quantino C'è solo quantino Manu Non ci lo scappa AAAAAAAA CANTO EQUITAIA MOLTO I CARABINIERI E' sposo che tana No 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 Non rilasci Manuel Lo sai che è psicopatico Vero Non rilasci troppo Quando sei in bostone Ma perché mi ingrifo Capite Mi ingrifo Perché gli capita una volta Ogni 104 anni Capisci Terza partita Ragazzi Questo gameplay Non ci sto capendo un cazzo Ma Oh no No Ho un testo in b***** Ciao Al Ciao Proprio Al Al fiore Proprio Ingrifo Ciao Proprio Non ci sto capendo Dove sono andato E perché non ti ha ucciso Comunque ho scoperto un bug Su questa moneta Ossia che l'impostore Ha un millisecondo Per prenderti Anche quando sei nell'avento A meno abbiamo A meno io e Manuel Abbiamo una cosa in comune Raga mi era Mi era Surprise m**** No 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 Raga ma questo mi segue In ogni stanza che vado Aiuto Raga Quando spawna in una stanza Lui è già lì Non manca una tasca Oh cazzo Rai lento Fai presto Sto cazzo di compiore L'hp del mio telefono No Raga i diari oggi Non è per niente Che mi riprende Come il titolo Lui lo metti Among Us E' già mi sono passato davanti Aiuto Rai Tutti quanti questi round Non sono morti neanche una volta C'è qualche domanda Fatevela Padre figlio Spirito santo Amen Dai Due secondi Ora te lo metto io in bocca Nuovo obiettivo sbloccato Hide and talent Wow Una skin Uno con una skin Che mi piaceva Abbandonato Metti pronto cinese Allora Come ti metti brutto Bastante Non sto parlando Con te Sto parlando Con questo Urniz Niz Rosso Se esce Ho Guy di R Come Impostore Maonele Sei qui Ti elimino Quella parte In cui sei stato Impostore Te lo giuro Caruto Non vado alla tasca della chiave Perché vi chiama Peccato se io questa mappa non la conoscesi Peccato perché non ha mai giocato questa mappa Perché io tipo ci gioco 24 secondi Questa mappa Io conosco solamente questa mappa Giuda Immaginatevi queste nuove Io sono spaunato Cioè sono spaunato a 100 km di distanza da lui Incredibile Come non detto Corri Fast 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 Manuela aveva ragione sul fatto che ero mongoloide Vediamo che fa Naruto Da sick Quindi è normale che mi prende Ehm Brava Guarda Eccolo Ma ti dico quando arriva Puoi andare in caffetteria E io che torno però Scherzo Ja Raga mi sto Non per scherzo Raga mi sto Guarda che c'è me addosso Tanto hai vinto ma Ah no Dov'è Dov'è finito Sta qua nella caffetta Accanto alla libreria Anzi no Qua Vire sta nella Nella sala comandi Ecco Mattias ma Stesso sull'opzione Stesso sull'opzione Tormenta Sta scritto Sta l'icona dell'impostore Vuoi cliccare anche lì Sì lo so Lo so Lì 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 lo so Piglialo 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 I'm going to win Let's go Let's go Dai dì Metti nel titolo Crossfiore non muore mai Non quante volte sono morto Questo è vero Zero C'è il coltario E' cinese Mi faccio tutto il nome Da facciamo il leadership Però prima di mettere lo scherzo Perché sennò non entra nessuno Quindi poi Appena ci stanno dando Versione Mi fa il leadership inizio Ok Ragazzi ma vi siete già Ripotenti di mettere like Iscrivervi Condividere No perché secondo me Sono ritardati Ragazzi sto scherzando Ovviamente Mettete like Al video E commentate Se non lo fate Lo vedete questo petto Che ho io Questo fiore Ecco viene proprio fiore Insieme a questo petto E gli vengono a mangiare la faccia Among Us Non mi permette di usare La chat libera Oh cazzo Sì No Ma Manuel Non qui Taglio la parte In cui sei impostore Ok Però Non ti dico a camminare Tutti di me Perché se mi devi ammazzare Come prima Io mi arrabbio Di già Ok Dai No Però dovete togliere Sto patto della To No Ma sto naruto Mi sta Un po' Ragazzi Ma sto naruto Mi sta prendendo in giro Tiè Sì Sì Mi sono partita A nascondire Dove sono io Ragazzi Non mi asco spesso Eh Vero rispondete Le mie domande Fuck you A me non so No ragazzi La situazione Si sta mettendo male La situazione Si sta mettendo male Ce la puoi fare Se hai messo Con una gazzella Però ce la puoi fare Però lo vedete Sono bravo a saltare Ma non a uscire Vabbè ragazzi Però è andata meglio Della scorsa volta Che sono stato un testore Almeno tre di loro Sono riuscito a eliminare Compreso quel mongoloide Di Naruto Ragazzi Io voglio dire una cosa Io ero talmente nascosto Che avete presente L'indicatore In alto a sinistra Si Non mi è compatta Neanche una tacchetta Dai che da non entra Oh no Io in questo momento Ho l'ansia E non so dove Dove ficcarmi In quale event Ficcarmi Tanto non capirei mai Dove sono nascosto Vabbè Ti trovo Uccido Ok Grazie al cabo È il tuo obiettivo Ragazzi Riaccomi Dove si vede Posso accarezzare Il mio petto Nel postone Accarezzano Accarezzano Oh Non vuoi dimostrare Non vuoi dimostrare Mattias Mattias No ragazzi Iscrivete Hashtag Mattias Mostro Per il fatto che Non vuole accarezzare Il suo petto Perché? Perché non vuole Perdere tempo Mattias L'ho accarezzato L'ho accarezzato Mattias quando è l'impostore È senza pietà Ma lo è sempre stato Cioè anche L'ho accarezzato Va bene Allora sei con la pietà Sei molto pietoso Raga Raga Arriva A 100.000 like Se Mattias Non mi uccide Eh magari Mi piacere Perché sono voi due Oh cazzo Io sono fermo Da 20 minuti Se mi trovi Mi fai anche un piacere Inserisci Dimmi il codice Da inserire E io forse entrò Entra Ah grazie Eccomi Mamma Abbassate ricarica uccisione Eh ricarica uccisione Polcazzo Forza Napoli 5 Un po' di tensione Raga No E mi ricarica 3 ore Vabbè Martias Non ti lamentare Di questa cosa Il carica 3 ore Significa che ti vogliono Tutti quanti bene Anche tua mamma Ti vuole molto bene Lo sapevi Oh No Vittoria Sì Codo Cium E non ho fatto un cazzo E noi abbiamo E io non ho ucciso Quasi nessuno Non ho ucciso Nessuno Vietano Vietano Batti il pisetto Eyo What the fuck Chi è Admin Tra voi due Ah ma Allora Manuel Dimmi il codice No Ma che è il sale Il mio prosciutto Così almeno Più Lui mi capisce Più di voi Ragazzi Non potete capire Vietano Leggila Certo Ecco Questi qua Siamo noi Che aspettiamo Di Entrare in una partita Cioè ragazzi Vi rendete conto Ogni Ogni clip Che vedete Per voi passano Cinque secondi Ma per noi Passano trent'anni Per cercare una lobby Metti qui Pronto Metti però Prima la cosa Cosa Ma Shield Shield Io volevo essere Ingegnere Piango Piango Io piango Ma solo io Ho l'impressione Che il verde Il suo impostore E sus Che hai detto Ma adesso Non so se ci rifletto Ma il viola Non era morto Sì Guitano Era morto Solo che E ho visto qualcuno Mutare in viola Io c'ho paura di Mattia Perché mi ha strazzato prima E quindi ho paura Che mi vuole strazzare Di nuovo Mattias Tira fuori le mani Dal pisello E tira anche le mani Fuori dal mio porto Sapete che sono Lo scherzo Sto registrando Vero Anche l'opro Ti ha detto Ma anche no Non è che è lui L'impostore No Mattias Stai lontano da me Guitano Guarda qui la finestra No Guitano Vai di qualcosa Guitano Non ti permetti Di toccarmi Guitano Ti spallo Come la merda Ok Mattias Sei un marocchino L'ho sempre detto Dai Ragazzi C'ho di nuovo 8000 tasche Che dobbiamo fa' qua Ragazzi Voi nella barra Delle tasche Quante tasche Ti dice di avere Sei Anche a me sei A me esce A me esce 12 Se volete dopo Diminuisco l'età Poverò mattia Ti vendicheremo Arouro Arouro Arouroa Ti vendi Arouroa Arouroa È giusto 15 persone Sassate 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 Perché è mutato Mattia Se ti facessero prete Ti giuro Ti facessero prete Carcolino Vogliamo bene Ma che servono le radio su Airship Cos'ha detto Che hai DR Cosa servono le radio su Airship E' un cuscino di piu E' un cuscino di piu E' l'acqua del fi Manuel Stai Stai Lontano da me Io sono Tu mi stai Segui Apro AAU 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 Votate il nazista Raga Votate il nazista Forse Se non è il naz Raga Se non hai ragione Che danno Cosa te lo fa pensare Io Tu sei cinese E Mattias Il detective del mistero Cic Votate il nazista Raga Votate il nazista Netano Sei il peggior Mongoloide del mondo Netano Sei il peggior Tipo di essere umano Che esiste Tu sei stato adottato Te lo ricordo Mattias C'è Questa è l'ultima partita E poi finiamo Non lo so Io Mi facciamo tutte le partite Eh Non lo so quanto può arrivare Bene ragazzi Nonostante litigio Il video di oggi Finisce qui Mi raccomando Iscrivetevi al canale Di GuideDR E attivate la campanellina Delle notifiche Per non perdervi nessun video Poi iscrivetevi anche A i tuoi canali Di MarioGamer68 E DarkSoulKO Ragazzi Seguitemi anche su TikTok Instagram E Mattips TikTok Mi chiamo MattiMattiS0 E anche sul secondo account Mi chiamo MattiMattiS0 Un attimo basso live Poi su Instagram SuperMatti888 Poi DarkSoulKO Su TikTok Si chiama 8bitoriginal Mi pare O ufficiale original Va bene Noi ci vediamo In un prossimo video Ciao 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 Ciao